Via con Liscio, appuntamento che tutte le volte che arriva ci permette di raccontarci. Ci raccontiamo con canzoni, con piccole storie, con strumenti, col pianforte, chitarra, clarinetto, sax, auto. Quello che mi capita si racconta di discografia, si racconta di canzoni che raccontano, perché le canzoni raccontano dei momenti di vita, delle esperienze personali. Nel caso di oggi vi faccio ascoltare un po' di note su scritte per Simoncelli. Per te Sic 58 è il titolo di questo brano del pianoforte che ho dedicato a questo splendido ragazzo che purtroppo per un incidente di moto in gara ci ha lasciato. Io ho avuto la fortuna tra l'altro di conoscere il padre in occasione di un momento importante la messa in posa della prima pietra di una struttura di accoglienza per bisognosi. Quindi una struttura realizzata nella sua città, nel suo paese, nel suo territorio. Io veramente quel giorno ho anche capito veramente l'umanità, la serenità, la voglia di vita di questo ragazzo pieno di entusiasmo come tutti i ragazzi poi della sua età in uno sport molto difficile come quello della moto. E' la fortuna appunto di incrociare queste persone, il padre che racconta il figlio e che con un'energia incredibile riesce a portarne avanti il ricordo facendo cose veramente importanti. Io semplicemente ho fissato in alcune note delle emozioni e ve le trasmetto. Per te Sitch 58 E' la fortuna appunto di incrociare queste persone, il padre che racconta il figlio e il padre che racconta il figlio e il padre che racconta il figlio. E' la fortuna appunto di incrociare queste persone, il padre che racconta il figlio e il padre che racconta il figlio e il padre che racconta il figlio. E' la fortuna appunto di incrociare queste persone, il padre che racconta il figlio e 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 il padre che racconta Grazie a tutti. Per te, Sitzer, 58. Un'emozione fortissima nell'avere suonato questo motivo per voi. Ciao.